Non è ancora chiaro il ruolo di Daniela Tura De Marco e se ha avuto un ruolo nell'omicidio del padre Eugenio, il carrozziere sessantenne ucciso a coltellate lo scorso 19 febbraio nella sua abitazione nella rione Fornelle di Salerno. Al momento l'unico indiziato è il fidanzato di Daniela Luca Gentile, ma gli inquirenti vogliono capire il ruolo che la ragazza ha avuto. Ieri Daniela ha parlato per cinque ore con il sostituto procuratore presso il tribunale di Salerno Elena a Guarina o negli uffici della procura di Viera Fastia. La 23enne ha ribadito a più riprese di non aver ucciso il padre, ma ora sarà anche una perizia psichiatrica a verificare le sue condizioni di salute mentale. La giovane nel negare qualsiasi coinvolgimento nel delitto ha affermato che voleva molto bene al papà e non si sarebbe mai augurata la sua morte, mai avrebbe collaborato al disegno omicida, ma nessuna certezza ed anche il PM Guarino stamani ha confermato che si seguono ancora tutte le piste possibili. Il ruolo è un ruolo che io sto verificando, sto accertando, non è facile dirlo perché è chiaro che ci sono una serie di accertamenti in corso, non so nemmeno se c'è stato un ruolo attivo. È il mio dovere investigare, è il mio dovere verificare nel rispetto praticamente di una persona che è deceduta. Per quanto siano abbastanza turbolente le situazioni in cui è maturato questo omicidio, io devo verificare ancora tante cose, per cui non c'è soltanto il segreto investigativo, ma c'è anche la possibile apertura a tutte le piste e quindi io devo verificare se c'è un ruolo e quale sia stato il ruolo di questa ragazza.